Visto che questi tipi di video vi piacciono molto, ho deciso di portarvi la seconda parte appunto su questi tipi di video Quindi ragazzi, tanti mi piace, tanti commenti e vi porterò anche un terzo video riguardante appunto il calcio Ciao amici di Youtube, qui con voi, ciao e muzza e oggi siamo in un nuovo video Oggi ragazzi, come avete detto dal titolo e come avete visto dalla miniatura, credi che guardo là, non lo so Oggi ragazzi siamo qui per fare un'altra incredibile reaction Calmiamoci Perché appunto oggi andremo a reagire come avete detto dal titolo, come avete visto dalla miniatura e come avete visto dal titolo e dalla miniatura Se non ve l'ho detto, mi titolo e miniatura, vabbè, sto dicendo troppo e se non state Oggi faremo la reaction ai gol più assurdi fatti all'ultimo minuto Vi vedo subito quindi lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella Mi raccomando raga, iscrivetevi tutti se non siete iscritti Scaricate l'app di OneFootball, primo link in descrizione, mi raccomando, scaricatela a tutti che è importantissimo Perché è la migliore app del calcio Dove troverete tutte le news sul mondo del calcio, sulla vostra squadra del cuore Quindi primo link in descrizione, scaricate OneFootball Direi di non perderci in chiacchiere Mettiamoci le cuffie e andiamo a reagire subito ai gol più assurdi fatti all'ultimo minuto E io sono carico e pronto perché ne vedremo delle belle, andiamo dai Ok ragazzi, si inizia subito Mamma mia, così Sergio Aguero! Sergio Aguero! Il City è il campione di Guitterna! Raga, sta partita è assurda È assurda! All'ultimo minuto c'era Mancini in panchina qua È assurdo sta partita Cioè praticamente un secondo fa il titolo era del Manchester United Segna Aguero il titolo è del City Mamma mia, voglio che partita! 3-2 Immagino l'emozione, immagino Eh vabbè qui Eh vabbè Eh vabbè Mondiale 2010 André Siniesta! Allo scadere! André Siniesta! La spagna è in vantaggio! Proprio lui Iniesta! Mamma mia vai giù Un gol al mondiale così La finale dei mondiali Cioè Eh Eh vabbè Questo pure è bello eh Adar! Adar! Il Portogallo! Il vantaggio contro la Francia! Mamma mia Qui il Portogallo vinse gli europei Con l'infortunio di Ronaldo Che se non sbaglio abbiamo visto nello scorso video Dei momenti più tristi nel calcio E raga Mamma mia Mamma mia Assurdo qua eh Ronaldo qui che la alza Mamma mia Oddio questa Mi manca Non lo so Ehm Che roba è qua? Segna Neymar su rigore Che vince il Brasile qua? Neymar piange? Oddio che ha vinto il Brasile qua? Ehm Raga eh Scrivetevelo nei commenti Che non lo so Vi dico la verità Non lo so qua La vittoria del Brasile Che esulta Guardate lì Ehm No Mi manca Non nemmeno mi piange Che cavolo è? Eh non mi ricordo Non mi ricordo Argentina Iran Lo Messi 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 Al 91 Argentina in vantaggio Vabbè questa Mondiale 2014 Me la ricordo Qui l'Argentina è andata in finale Mondiale qua Ehm Ehm Parlando appunto dell'Argentina in finale Proprio in finale Goz Porta in vantaggio la Germania E la Germania con questo gol Diventa campione del mondo Mamma mia Vince il Mondiale qui Che gol fice Goz Qui Bellissimo Portogallo Egitto CR7 Di testa 1 a 1 Che gol Bello Ah Ha fatto pure il 2 a 1 Vabbè CR7 Il 2 a 1 A 93 Se non sbaglio Grande CR7 Cross di Quaresma Boom Che campione Forte Forte Che ci vuoi fare Se è forte È forte Qui Che roba è Gol Penso sia Mondiali 2018 Sì Sì Che si ulta Qui la Germania è uscita fuori E giro lì Ah beh Questo gol Me lo ricordo Gol di Son Incredibile Guardate quanto corre Son Son All'ultimo Chiude la partita La Corea Mamma mia Bellissimo Oddio Non lo conosco Questo gol Tutti ad esultare Incredibile Non si capisce niente Penso si tratti sempre di nazionali Sì 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 Che è Camerun Turchia Se è andato all'ultimo minuto Un gran gol Bello Qui Marcos Rocco L'Argentino E vantaggio All'86esimo Da Maradona Da Maradona No No L'ha fatto pure vedere Vabbè Gesti che non condivido Però vabbè Dai Qui Bellissimo Gol al volo Eh Deve essi come surto Con Rocco Qui Mina E la Colombia Quanto è alto Mina Quanto è alto Dove è saltato Pure Mamma mia Assurdo Veramente Mina Dove c'è Camina In Inghilterra Non mi ricordo che squadra Sicuramente Qui Shakiri Con la Svizzera La piazza Shakiri Incredibile Bellissimo Oh Il fisico di Shakiri Lo fa vedere Ma sì Va bene la maglietta 3 a 2 Barza Al 93 Leo Messi Troppo è lui Carvacal Quasi lacrime Bellissimo Mamma mia Mi sto gasando troppo Veramente Bellissimo Mamma mia Signori Che bello Questo pure è bello Questo pure è bello Contro la Svezia Sì Toni Kroos Fa un golo assurdo Qui al 90 E qui la Germania Ha vinto 1 a 0 Che golo Ha fatto qui Toni Kroos Dalla punizione Bellissimo Molto molto bello E vabbè Questo me lo ricordo C'è l'Ancelotti In panchina Sergio Ramos Il pareggio Il pareggio Del Real Madrid All'ultimo minuto All'ultimo No all'ultimo All'ultimo seconda All'ultimo C'è l'Università La piazza Di Dier Di Dier Rigore decisivo Di Dier Di Dier Di Dier Bellissimo Eh Me la ricordo Stamattita Che gol Che gol Di Dibala 93 Tresimo Da terra Guardate lì Sergi Roberto Sergi Roberto Incredibile Sergi Roberto Mamma mia Che partita 6 AC Quanto è finita Stavartica Non mi ricordo Mamma mia Che partita Mamma mia Mampis Depay Che gol ha fatto Non lo conoscevo Questo gol Di Mampis Assurdo eh Contro il PSG All'ultimo Depay Come l'ha messa Per l'indibili Bella La paura Non ce la faccio Mamma mia Mamma mia Matador Che gol Al 95 Il 94 Quanto è Il Matador Che partita Non lo conosco Questo gol Bel gol Bellissimo eh Vabbè ragazzi Questo video può finire qua Mi raccomando Facendo un bel like Un bel commento Iscrivetevi al canale Raga Abbiamo visto davvero Dei gol Assurdi All'ultimo minuto Finali di Champions League Mondiali Veramente di tutto Mentre ci stanno Ancora Tanti altri gol Da vedere Se volete La seconda parte Mi raccomando Fatemelo sapere Qui sotto Nei commenti Niente Direi che questo video Può finire qua Quindi da me Da questa Compilation di gol Al novantesimo All'ultimo minuto È tutto Noi ci vediamo Nel prossimo video Bella Con le cavali Contro le 10 Mamma mia